In via Cavour aspetto il tram Infila coi colleghi in tasca i soldi di fine mese Le sei di venerdì Che cosa dicono i giornali? Non gioca a Zoff e nei guai per Zoff C'è stato il solito attentato Fermati in tre con un basco blu La 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 Mi viene da pensare che in fondo anzi io potrei saltare in aria con il tronco. C'è un tipo strano con un pacco, mi sembra che porti un vasco blu. No, non mi piace proprio niente, io scendo qui, meglio non rischiarti. In casa mia, alla tv, gli scandali di Stato, friuli, lochi e dei fondi neri tra la carra e tic-tac. E' proprio quello che ci vuole, un buon caffè ed un nuovo quiz. Ma che bel fine settimana, peccato che sia già lunedì. Peccato che sia già lunedì. Grazie a tutti.